Ok, 300, guarda se arriva in macchina, prima variante destra 2, no dritto ma facciamo la variante, al secondo cartello giallo valuta la staccata perché hai le gomme fredde, destra 2, ok, in sinistra 2 più, apre quando inizi a raddrizzare puoi accelerare, 50 destra e chicane in trasinistra, chicane in trasinistra, questi sono tutti i fari che abbiamo, mi senti Franci, ok, destra 4 lunga, lunghissima, giù in fondo la staccionata alta che non vedi ai 50 metri, stella a sinistra, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 100, attenzione, seconda variante, sinistra 2, sinistra 2, in molta attenzione, destra 0, tenere, 2, destra 0, tenere, per tornatino sinistro, in destra 0, lascia, 50 sta in sinistra, prima di Lesbo, ritardo a poco, destra 3, ritardo a poco, destra 3, punto di corda, 20, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 50 sta in sinistra, ritardo a poco, destra 3 meno, punto di corda, 150, stai a sinistra, vai dritto, attenzione, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, e poi andiamo 300, una strada sola, portati a destra, e arriviamo alla Scari, al cartello 50 frena, sinistra 3, siamo sulla mia, sinistra 3, in, destra 4 lunga, sporca, in sinistra 3 più, lasciala e poi ti porti a sinistra, 150, tieni giù, giù in fondo, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, bravissimo, 400, portati a destra, e giù in fondo, in fondo, a quelle lucine là, attenzione, famosa sinistra 4 meno, in tornante destro, famosa sinistra 4 meno, in tornante destro, per sinistra 3, stai a sinistra, giù in fondo, tornantino destro, tornantino destro, in tornantino sinistro, 30, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 80 destri, una strada sola, sfiora la gomma la sinistra, e poi c'è un tornantino destro, tornantino destro, in, tornantino sinistro, sta in pista, sta in pista, 80, chicane lunga entra a sinistra, chicane lunga entra a sinistra, destra sinistra, marcia, bravo, destra sinistra, destra, e andiamo da papamiele, tornantino sinistro, Johnny, tornantino sinistro, Johnny, in destra 3, 300, al secondo cartello giallo valuta la staccata, variante destra 2, variante destra 2, per, sinistra 2 più, apre, 50 destri, attenzione, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, destra 4, lunga lunga lunga, lunghissima, giù tutto, alla staccionata alta che non vedi, è ancora 50 metri, stai a sinistra, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 100, giù in fondo la seconda variante, attenzione, sinistra 2, attenzione, sinistra 2, in molta attenzione, destra 0, tienila, per, tornantino sinistro, tornantino sinistro, in destra 0, lasciala, 50 stai a sinistra, via che andiamo, giù in fondo, ritarda poco, destra 3, ritarda poco, destra 3, prima di lesbo, punto di corda, 20, attenzione, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 50 stai a sinistra, seconda di lesbo, ritarda poco, destra 3, meno, punto di corda e poi sai quello che devi fare, 150 stai a sinistra, bravo vai, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 300, vai vai tranquillo, dolce, fa niente, tanto ci abbiamo provato, ma no è buio, 50 metri, frena lì alla scari, sinistra 3, dolce, sai che la mia sinistra 3, che io la adoro, in destra 4 lunga sporca, in sinistra 3 più, lasciala e poi ti porti a sinistra, 150, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 400, portati a destra, giù in fondo, in fondo, prima della paraborica, attenzione, famosa, sinistra 4 meno, in tornante a destra, 4 meno, in tornante a destra, per sinistra 3, stai a sinistra, tornantino a destra, tornantino a destra, in tornantino a sinistra, 30 chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, dolce, 80 a destra, una strada sola, stai a sinistra, tornantino a destra, tornantino a destra, in tornantino a sinistra, stai ancora in pista, 80, lunga chicane entra a sinistra, lunga chicane entra a sinistra, destra a sinistra, destra a sinistra, destra, 50, andiamo da papamiele, tornantino a sinistra, tornantino a sinistra, in, destra 3 Johnny, via dritto adesso, 300, andiamo alla prima variante, al secondo cartello giallo valuta la staccata, per destra 2, per destra 2, per sinistra 2 più, apre, quando ora addirizzo in volante, acceleri, 50 a destra, chicane entra a sinistra Johnny, chicane entra a sinistra, destra 4 lunga, lunga, lunghissima, alla staccionata alta che non vedi ancora, 50 metri, stai a sinistra, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, chicane entra andiamo alla seconda variante, attenzione, sinistra 2, sinistra 2, non star lì a guardare tutto, in attenzione, destra 0, devi tenerla, per tornantino a sinistra caro, tornantino a sinistro, in, destra 0, destra 0, 50 stai a sinistra, prima di lesbo, ritarda poco, destra 3, ritarda poco, destra 3, punto di corda, 20, molta attenzione, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 50 stai a sinistra, seconda di lesbo, ritarda poco, destra 3 meno, punto di corda, poi sai quello che devi fare, 150, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 300, portati a destra, andiamo giù fino alla scari, al cartello 50 metri, frena, sinistra 3, la mia, sinistra 3, in, destra 4 lunga sporca, dolce, 4 lunga sporca, in, sinistra 3 più, lasciale poi ti porti a sinistra, 150, giù in fondo, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, 400, portati a destra, e andiamo giù alla parabolica, prima della parabolica, attenzione, famosa a sinistra, 4 meno, in tornante destro, 4 meno, in tornante destro, per sinistra 3, stai a sinistra, tornantino destro caro, tornantino destro, in, tornantino sinistro, 30, chicane entra a sinistra, chicane entra a sinistra, adesso dobbiamo uscire Franci, ok, bravo, 80 destri, stai a sinistra, tornantino destro, tornantino destro, in, tornantino sinistro, e poi dritto fino al cartello rosso, e poi dritto fino al cartello rosso, ok, puoi già abbassare i fari, non come quello lì.